Salve, care amiche e amici che mi seguite nel mio canale di Youtube ChanTenChan, adesso mi trovo fuori casa, ho caricato dei video ultimamente in Youtube che spero vi piacciono, del nuovo materiale, faccio degli sforzi sempre per trovare del nuovo materiale che vi possa interessare, voi fatemi sapere se vi piace e già in parte me lo fate sapere perché siete circa 80 iscritti con 6.000 visioni e quindi vi ringrazio a tutti voi per tutto l'appoggio che mi date, al più presto caricherò nuovi video e non mancate di seguirmi nei miei canali di Spreaker, di Vimeo e Dailymotion. Salve, sono sempre io, il vostro San TenChan, non lasciate di seguirmi in Youtube, contattatemi in Facebook, anche in Google+, Twitter, il mio canale di Spreaker, San TenChan, Vimeo e Dailymotion. Salve, mi raccomando, vai così! Sto facendo la stessa, per quello che sono uscito di casa, al più presto quando ritorno carico questo video e vedo di studiare di farne altro per il mio canale di YouTube, Vimeo e Dailymotion. parlerò anche di Spreaker, che caricherò in Facebook e anche in Twitter. Spero di trovare dell'ispirazione per fare nuove cose. Amiche e amici che mi seguite, sono di ritorno dalla strada, adesso passo ad editare questi video, perché sono dei messaggi, anzi questo video ne farò uno di tutti, perché sono dei messaggi per tutti voi e al più presto provvedo a fare un altro. Adesso sto usando un cellulare molto economico, credo che lo potreste apprezzare dalla qualità del video che viene, anche da casa, non solo dalla strada, non lascio di informarvi circa affatto che sto per preparare dei nuovi video per Dailymotion, Vimeo, YouTube e cercatemi.